Una nuova passeggiata per la nostra rubrica Passeggiando per Caltanissetta con Lillo Miciche Con un artista, un vero artista Concedimi la licenza Ma dove vedo bellezza non posso che definire così No, non sono d'accordo perché l'artista Io sicuramente non sono artistico Sono semplicemente una persona che ama la fotografia Una persona che da 40 anni circa Dedica il suo tempo a questa passione Che mi permette un po' di raccontare ciò che vedo Per cui io penso che sia chi dal niente riesce a fare qualcosa Io non faccio altro che riportare le cose che già esistono Per cui non sono artistico Ci vuole maestri anche a riportarle? No, 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 va bene No, io non sarei in grado Voglio dire, è semplicemente una passione come tutte le altre Che è portato per fare la pittura Che è portato per le sculture Che è portato per la poesia, per la scrittura E io molto umilmente credo Non lo so adesso se sono portato per la fotografia Quanto meno ci provo Sto cercando di imparare ancora qualcosa Per imparare c'è sempre tempo Io dico fino all'ultimo respiro Perché impariamo qualcosa che non conosciamo Durante la vita, assolutamente Assolutamente sì 40 anni hai detto? Ma probabilmente sì C'è una passione vera Cioè per non scemare assolutamente Forse anzi è incascendo Io vado ormai per quasi 58 anni Con molto piacere voglio dire La macchina fotografica a casa mia c'è sempre stata Con i miei Io ho ancora la macchina che mio padre compro il giorno O pochi giorni dopo la mia nascita Una vecchia Ferrania Ed è una macchina che mio padre appunto compro per Per chi c'è il primo figlio Allora è venuto fuori Questo modo di raccontare la crescita di questo bambino Poi mio fratello E questa macchina devo dire che a tutt'oggi è funzionante Per molti anni è stata abbastanza attiva Perché mio padre aveva comunque Non era un fotografo Però aveva questa passione In qualche modo Poi io verso i 18 anni Giù di lì Il giorno più il giorno meno Ho avuto questa Come dire Abbiamo iniziato con una macchina un po' più impegnativa Poi un obiettivo Poi il flash Poi si va avanti Poi le cose andavano bene La pellicola La diapositiva Il proiettore Poco a poco Ma soprattutto Montando gli strumenti Il fatto di leggere molto Di studiare molto Quelli che erano i fotografi di un tempo Quelli che hanno segnato davvero la storia Allora lì ti appassioni Effettivamente Perché se ti limiti a cercare la passione Soltanto con gli strumenti Probabilmente ti fermi Se invece la passione La intensifichi con Con la ricerca di chi appunto ha fatto la storia Come ho detto prima Di chi ha raccontato fotograficamente Quelli che sono stati gli eventi Ma appunto della storia Allora sicuramente la passione viene Aumenta di più L'interesse aumenta di più Da profana chiedo Domanda magari banale Reflex Rispetto alla digitale Non c'entra niente Non c'entra niente Comunque è una persona Sembra una persona Se il sistema cambia Prima avevamo il sistema Analogico che era la pellicola Adesso il sistema digitale Che ha un sensore Ma la qualità della foto cambia Non cambia? E come cambia? Allora Questa sia un'eterna discussione Io credo che oggi possiamo dire Che non c'è più differenza C'è ancora qualcuno Che ha la passione alla pellicola Perché è abituato ancora alla pellicola Perché probabilmente Non è neanche passato alla digitale Allora continua a sostenere Che la pellicola Aveva il suo fascino Aveva la sua La sua dimensione di qualità Oggi devo dire che Il sistema digitale Ha raggiunto ottimi livelli Per cui siamo lì La cosa più importante Non è tanto lo strumento È quello che si vuole trasmettere Nella foto Nella stampa Non andiamo a vedere Se è fatta in digitale O se è fatta in analogico Vediamo il racconto Che c'è dentro con l'immagine Per cui dobbiamo Personalmente attenerci a quello Poi la macchina Lascia il tempo che trova Uno scatto come nasce? Uno scatto dico Come nasce? Uno scatto nasce Nasce Da tante situazioni Può esserci lo scatto spontaneo Può essere Lo scatto ricercato Può essere Lo scatto di circostanza Perché devi Assolvere a una commissione Un lavoro che ti è stato assegnato Per cui scegli Le varie cose Se esci No scegli Voglio dire Fai quello che è legato Alla richiesta Se scegli Quello che Diciamo La spontaneità E quello Fa parte un po' Del tuo animo Perché comunque Devi Trasmettere Quell'emozione Che ti può dare Il soggetto L'oggetto Che in quel momento Stai inquadrando Stai vedendo Lo percepisci con gli occhi Siccome hai quel minimo Di sensibilità Un po' per abitudine Un po' per natura Personale Allora ti accorgi Che c'è qualcosa Che funziona E allora Prendi la macchina fotografica E tac E blocchi quel momento Mi sembra di capire Che sono gli scatti Che preferisci Sì Sicuramente sì Perché gli scatti Commissionati Di circostanza Hanno degli stand Dei canoni Per cui devi seguire Se sono foto di architettura Se sono foto Celebrative Di qualcosa Allora in quel caso Devi Attenerti Anche se Un pizzico Di Chiamiamola Tra virgolette Follia In me le foto Canonica Allora Probabilmente Viene fuori Anche qualcosa Di grazionale La foto spontanea Invece è quella Che tu Cerchi con calma Con Il tuo modo di vedere Insomma Poi Cerchi di raccontarlo Agli altri Poi se va bene Sarà la storia I tuoi libri Sono variegati I racconti Ogni volta Una storia diversa I libri Che ho fatto Sono Gran parte Dedicati Alla città Anche se io Da un po' di anni Ho lasciato Questo aspetto E ho curato Più La cosiddetta Street photography Comunque la foto Di strada La foto Di La foto Giornaliere Insomma Quella che Mi permette Di raccontare La gente Quella che mi permette Di raccontare Ciò che si vede Effettivamente Insomma In ognuno Di noi Che vediamo Ognuno Di noi I libri Invece Avevano un altro taglio Erano legati Più alla città Di Caltanissette Il primo libro Fu Immagini Di una città Il secondo Il secondo Palazzo di Morem Questo è uno Forse quello che amo Di più Poi ci fu Caltanissette A strada Mura e colori Poi un libro Dedicato al Redentore Con la professoressa Zaffuto Rovello E poi Insieme ad altro Un libro Sulla provincia Dedicato più Agli aspetti Di cittadini Che hanno avuto La loro Valenza Perché la città Che se ne dica È una bella città E basta guardarla Con attenzione Con l'amore Di chi ama Questa città Vi assicuro Assicuro che Si trovano davvero Degli spunti Che non abbiamo Nulla da invidiare All'altra città Di provincia Di del resto Italia Non abbiamo Il Colosseo Non abbiamo Il Duomo di Milano Ma abbiamo Il nostro Duomo Che non è Non è poco Insomma Ci sta salutando Noi dovremmo Cambiare un po' Forse Nei confronti Della città Un po' La mentalità Amarla Per come diciamo Sui social Che l'amiamo Così Solo per scriverlo Ma dovremmo amarla Invece Direttamente Vivendola E stando A contatto Con la città E non pensando Che devono essere Gli altri A fare Come dire A sistemarla Modificarla Dobbiamo essere Ognuno di noi A dare il nostro Contributo Per renderla Sempre più gradevole Per questo era una frase fatta L'unione con la forza Sembra una frase fatta Però dico A me è capitato Più volte Di ospitare amici Fotografi Di altre città Insomma Da fuori Dalla Sicilia Anche da fuori Dalla Sicilia E tutti mi dicono Che è bella È una città davvero Mi piacevole Vedere la città È gradevole Qualcuno Questa parola non piace Ma io la uso Perché Effettivamente È gradevole Stare in città Non è una cosa È gradevole Non è una brutta parola Anzi Oggettivo Sì sì Qualcuno mi ha contestato Insomma Lascio il tempo che trovano Questi contestatori Però dico È una città davvero Normale Ecco Normale Piaggente Se fossimo leggermente Più attenti noi Ma dico noi Significa veramente Io Tu Sonia Danilo E tutti gli altri Ognuno di noi Davvero Ma non è che dobbiamo fare Chissà quale opere d'arte Dobbiamo semplicemente Fare le cose normali E riusciremo a vedere Quello che Diciamo Sui social Magari in realtà Non lo vogliamo Senza veramente buddare Certo Poi Poi Ho lasciato un po' Questo aspetto Della città Torniamo alla fotografia Ora Fuori alla città Sì Poi a un certo punto Un fotografo Ma Una persona che si dedica a qualcosa Si mette in discussione Di dire Ma devo continuare a fare Questo Voglio fare altre cose Io ho voluto fare altre cose E ho voluto soprattutto Dedicarmi un po' All'aspetto Lo dicevo poco fa All'aspetto antropologico Le persone La gente Quello che vive Normalmente La giornata Così E allora Vado in giro Per Per la Sicilia In particolare E cercare di raccontare Quelli che sono Gli aspetti quotidiani Così Un giorno potrebbe essere Un segnale Pensi di fare una raccolta Di questo Assolutamente sì Assolutamente sì Nelle mostre che ho fatto Legate a questo aspetto Delle Delle persone L'ultima l'anno scorso Al museo archeologico E ho fatto Un cataloghetto Piccolino Che l'ha distribuito gratuitamente E lì C'è proprio Il racconto Delle persone Insomma Quelle Quegli aspetti di vita quotidiane Che ognuno di noi Vive Sotto l'aspetto tecnico Due dritte ce le dai Allora Mi profana Che scappolo il cellulare Non vorrei Non vorrei Non vorrei Non vorrei sconvolgerti Ma Io non sono Un amante alla tecnica La tecnica è Intanto conosce La macchina Mi consoli Assolutamente sì Guarda Certo È chiaro che la conoscenza La tecnica è necessaria Perché altrimenti Tante cose Non si possono fare Però una cosa È la conoscenza Della tecnica Una cosa è Fotografare solamente Dal punto di vista tecnico E allora lì Le cose cambiano Se conosci la tecnica E l'applicare Alla tua Al tuo modo di essere Perché poi la fotografia Come tutte le arti È l'espressione di se stessi Certo C'è la proiezione Di quello che siamo Allora Se racconti Qualcosa Legato alla Alla tua esperienza Allora La tecnica La sai La conosci La applici Ma Non la Non Non la primeggi Se si può dire Cioè non è L'elemento determinante Sempre E lì Puoi trasmettere La tua emozione Anche se la foto Viene Leggermente sfocata Anche se la foto Viene Non perfetta Al punto di vista Dell'inquadratura Però stai dando Un messaggio Stai raccontando qualcosa Se invece Fai una fotografia Prettamente tecnica Che Non ti dà Quegli errori Di nessun genere Probabilmente Non c'è Quella emozione Non ti trasmette niente Rimane una bella foto Una bella cartolina Però Probabilmente Al punto di vista Proprio emozionale Al punto di vista Del racconto Non dirige niente Certo Siamo nell'era dei selfie Selfie sì Selfie no Allora Io devo dire Scherzosamente Sono stato il primo Ad aver fatto il selfie Perché Negli anni Passati Insomma Quando si giochichiava Con gli amici Perché io Avevo sempre la macchina A presso Allora avevo il verso Di mettere la macchina Come sempre Come adesso Perché me ne aspettavo Poi Ne ho approfittato Per fare delle foto E Dico Mi si scherzava Allora mettevo La macchina fotografica Davanti Non come se oggi Si mette il cellulare E Mi sono fatto Insieme agli amici Non ci facevamo Per quello che era possibile Il selfie Cosiddetto Devo dire Che non è Una pratica Che Che ho continuato E oggi Non ho mai fatto Insomma A parte Cosa così Con il camico Che In maniera violenta L'ho fatto Ma non Non mi affascio Per niente Questa pratica Dico Progetti per il futuro A parte la raccolta Dicevamo I progetti futuri Secondo me È itinere I progetti Sono quelli Appunto Intanto di realizzare qualcosa Avevo già un progetto pronto Qualche anno fa Un paio di anni fa Su Un quarto Un quinto libro Sulla Sulla città Poi non è andato in porto Perché Non sempre le cose Si possono Si possono fare Perché comunque C'è un'economia C'è una Ci sono delle spese Insomma Non sempre si riescono Ad affrontare Determinanti cose Quindi Purtroppo Non è andato in porto Questo libro Che è ancora pronto È soltanto da stampare Poi vediamo Un po' che succede Dell'avvenire Per quanto riguarda altre cose In realtà sto scattando Di organizzato Di programmato Non c'è niente Perché Tu sai benissimo Che Ci sono delle cose Che hanno dei cicli Fai tre Quattro mostre Poi Può capitare Che la riproponi Ma può anche capitare Che ti annoio Proverai a fare altre cose E allora In questo momento Sto Sto facendo Un'altra cosa In realtà Sto Non dico Lasciando O abbandonando Ho rallentato Un po' Con l'antropologico Con le persone Perché sto curando Alcuni aspetti Delle Delle città Inzenzolato Quindi E quindi Diciamo che sto studiando Per fare qualcosa Di nuovo Che Mi mette In Mi metto in gioco Per capire Se riesco a fare altro Anche per Caricare La passione va alimentata E allora Che dire Tanto grazie Grazie a voi Ti aspettiamo Sia con la raccolta Io non ho mai posto Limiti O premure A queste cose A volte Può capitare Che più tardi Magari succede Qualche cosa La vita è bella Anche perché A volte ti riserva Le cose Che sono inaspettate Sembra non arrivare mai E domani Invece Come per magia Come per uno scatto Esatto Al momento Sto lavorando In questo momento Cammino con la macchina A fare gare E allora Grazie 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 a voi Grazie a tutti